ciao ragazzi spero tutto bene quindi anche oggi proviamo ad allenarci iniziamo con due giri più due la prima parte sono elementi semplici la seconda parte manubrio alle mani e ci prepariamo per la forza ci vediamo lì ciao ciao ed eccoci alla forza ragazzi questo push jerk fa parte della famiglia dei press in questo caso parliamo di forza sulle spalle quindi bilanciere occhio al movimento per qualsiasi domanda lo sai iscrivi sotto ciao ci vediamo al workout eccoci ragazzi arrivato al workout finale quindi sei guardato bene diviso in tre parti primo fatto da quattro giri del secondo da tre giri e l'ultimo da due giri in questo workout trovi due esercizi fondamentalmente difficili ma come abbiamo già visto nella sezione il coach ti spiega niente difficile basta prepararsi e avere i giusti metodi quindi voglia dare un'occhiata ma prima finisci di allenarti qualsiasi domanda scrivi sotto noi ci vediamo domani ciao ciao